fratelli e razzurri amici di facebook youtube e instagram buongiorno a tutti i ragazzi un saluto a tutti gli iscritti al canale buon sabato mattina dal diec e da derby dormiente su non gli bastano le coperte anche l'addobbo natalizio tutto basta che sta ma se vuoi un'altra coperta derby un cuscino darby ciao sei online sei in diretta derby se vuoi fammi dormire guarda non accade ci voleva proprio perché derby è sempre presente però ogni tanto non c'è ma oggi ci voleva derbino perché volevo iniziare proprio visto che ieri l'ho vista la partita croazia brasile brasile è uscito e sono contento di sta cosa perché vi ho detto inizio mondiale che avrei simpatizzato per l'argentina di lautaro e per la croazia di brozo e insomma fino fino adesso diciamo che gli sto portando bene anche se devo dire che tutte le prime partite non l'ho visto iniziate a vederlo cos'è da dieci giorni in mondiale dodici giorni quindi per il brasile sono contento a perché da italiano ne hanno un po troppe di coppe del mondo b perché ancora mi ricordo i miei pianti e le mie lacrime del 1994 in montagna ero ai rigori e c perché non avevo visto la scena perché alcune cose magari uno se le perde lo vedi lui non è un gatto lui è un cane ma non fa niente a quel coglione che durante la conferenza ha acchiappato il gatto in quel modo l'ha lanciato e quell'altro pirla che rideva a fianco guarda solo per quella scena lì stragodo che siano usciti ma stragodo stragodo che schifo di gente per quello dico che a loro manca solo la parola perché loro sono meglio di tante persone ma tanto meglio di tante persone quindi godo per tanti motivi e poi perché sono spacchiusi perché loro sono il brasile capito per una serie di motivi ma quella cosa lì del gatto e ripeto io sono un amante degli animali in generale però vado più verso i pelosi ok i pelosi dog coi gatti all'inizio non avevo un bel rapporto perché da piccolo un gatto mi graffiò e quindi rimasi un po scottato in realtà poi quando mi sono messo insieme a mia moglie quindi parlo di 22 anni fa lei aveva una gatta e da lì ho ricominciato a non aver timore dei gatti ecco perché insomma da piccolo mi aveva proprio un ghiato qua mi usciva il sangue da piccolo e quindi ripeto qualsiasi animale qualsiasi animale ma non esistono queste cose ma sta gente qui non lo so è quel coglione che a fianco rideva detto questo quindi croazia brasile croazia brasile è stata una partita che sicuramente ha avuto più occasioni brasile ma la croazia è una squadra tosta la croazia è una squadra bella la croazia è una squadra che che storicamente non ha un attaccante che tu lo puoi definire un vero attaccante quindi qualcuno si deve anche adattare però tanta qualità al di là di modric ripeto è proprio la qualità di di tutti gli interpreti come escono palla al piede con giocati di prima con con degli 12 ecco con anche anche lanci cioè insomma è bella da vedere la croazia non a caso questi vanno in semifinale e sono i vice campioni del mondo quindi sono contento per la croazia di brozo tra l'altro brozo si è trovato proprio la una palla li ha detto un rigore in movimento si parliamone perché comunque ci aveva addosso portiere avversari stava arrivando di tutto quindi non era neanche facile facilissimo poi una palla che che scottava tanto e quindi godo la partita di ieri sera non l'ho vista la partita di ieri sera non l'ho vista ovviamente sono contento per l'argentina e soprattutto per l'autaro martinez però anche qui ho visto un fermo immagine che non mi è piaciuto perché bisogna sapere anche vincere quindi se l'autaro martinez segna l'ultimo rigore è a centrocampo i giocatori la prima cosa cioè ho visto un fermo immagine dove sono tutti rivolti verso i giocatori dell'oranda che sono già in ginocchio praticamente quasi e li prendono per il culo cioè questo anche no questa è una cosa che non fanno neanche i nostri ragazzi i nostri sbarbati di 11 anni e se provano a farlo vengono cazziati quindi cioè vai verso l'autaro poi vuoi fare i cori per prenderli per il culo ma no così a caldo no così a caldo dopo 120 minuti di battaglia quindi a me queste cose non piacciono la partita non l'ho vista perché ieri sera appunto eravamo a fare la cena di squadra con gli sbarbati e abbiamo visto i rigori in diretta quello sì e ho visto il rigore di lautaro martinez sono contento che che abbia segnato in una in una situazione non proprio sua perché anche anche all'inter non è lui il primo rigorista c'è la noglu cioè adesso è tornato lukaku ma l'abbiamo visto in questi due anni che è diventato c'è la noglu il primo rigorista dell'inter quindi un lautaro con l'ultimo rigore quello decisivo e tra l'altro col movimento del corpo lui ha spezzato il portiere perché poi la mette dall'altra parte ha tirato un rigore è veramente bello bellissimo con una freddezza da toro quindi vediamo se si è sbloccato se fa due partite della madonna arriva all'inter insomma sbloccato ecco speriamo che sia questo il gol che che possa aver sbloccato il nostro toro il nostro toro martinez vediamo le partite oggi oggi quella di oggi non la vedo perché oggi siamo impegnati con la squadra però vedo quella di stasera quindi mi perderò il portugal col marocco cazzo che deve essere una bella partita e stasera insomma ci dedichiamo a inghilterra francia mi stanno sui coglioni tutte e due quindi se no allora se proprio mi sta meno sulle palle gli inglesi dei francesi quindi però insomma ripeto le le mie preferenze le sapete ve le ho dette all'inizio e stanno andando avanti ripeto da una parte di come dicevo se vanno avanti sono contento se se finiscono sono contento lo stesso perché vuol dire che tornano prima da piano tipo lukaku lukaku ero contentissimo cioè mi dispiace avevo detto nel video mi spiace umanamente per lui ma io da interista a me del belgio non mi frego un cazzo quindi ma siccome non c'è l'inter che si c'è adesso perché ci sono le amichevoli però insomma è una situazione anomala adesso vabbè si avvicinano le feste quindi comunque eravamo abituati a un tipo un paio un dici giorni di stop un paio di settimane però insomma è una situazione veramente anomala quindi ci aggiorniamo magari buono stasera dopo la partita non lo so vediamo comunque domani e andremo a a commentare sicuramente la partita di stasera quella di oggi poi vedrò gli highlight come ho fatto per argentina olanda quindi ripeto contento e godo per per l'uscita del brasile contento per brozovic per la sua croazia soprattutto per la scena del gatto si è vendicato il gatto e contento per l'argentina però insomma non mi è piaciuta quella cosa lì di presa per il culo a caldo non non esiste bisogna bisogna essere signori anche quando si vince basta ragazzi questo del video a no questione marotta è vero questione marotta perché poi ieri ieri dopo che ho fatto il video mini sfogo dove dico ma è possibile che nessuno dice niente dopo una settimana perché qui perché qui giustamente se andate a vedere video di manuel come dice manuel è proprio anche io ho attaccato i giornali perché dico ma che cazzo sono sti titoli cioè questi fanno passare una cosa ma non è questa adesso cosa viene fuori il malumore il malessere di marotta nello stare nell'inter e quindi vuole tornare no è la juve che ha la canna del gas e da quando si è andato via marotta sono successi casino e lo rivuole è diverso il discorso ha ragione manuel questo non deve passare questo e quindi a maggior ragione una settimana insiste qualcuno quindi è venuto fuori boh ha fatto un tweet biasin poi tra l'altro varie testate proponevano il titolo vai a vedere comunque era quello che aveva detto biasin che dice che la cosa è stata smentita dal diretto interessato nel senso che lui sta bene all'inter ma quando l'ha detta sta cosa io non lo so comunque tant'è che ripeto non è quello che si vuole far passare cioè comunque viene messo in mezzo l'inter il malumore il malessere non lo stare dell'inter ma porca mignota e il malumore di quelli che se ne sono dovuti andare no quella è stata la rivoluzione capito è quello che fa girare i coglioni condivisione dei video iscrizione al canale sempre forza inter vediamo oggi e vediamo oggi insomma vediamo ronaldo col portugal contro contro il marocco vediamo cosa succede secondo me non è proprio scontata e soprattutto poi stasera a questo punto no non dico niente non dico non diciamo niente speroni sulle fesce ciao ragazzi buona giornata